Un vero teatrino dove tra consiglio d'amministrazione e proprietà, che poi sono la stessa cosa, di fatto si sta facendo un gioco al ribasso che veramente ci sconvolge. È un giallo senza fine, ricco di colpi di scena, ai quali però restano appese le vite del 280 lavoratori della FIMER di Terra Nuova Bracciolini. I lavoratori sono veramente sconvolti e stravolti, sono arrivati veramente al limite e non escludiamo che ci sia qualche iniziativa ulteriore. A poche ore di distanza dall'annuncio, dato da Greibull McLaren, sul raggiungimento di un accordo per l'acquisizione del 100% dell'azienda, con tanto di 50 milioni in conto corrente ma con la necessità urgente di sollevare il CDA, è infatti arrivato l'annuncio del consiglio di amministrazione sull'accordo sottoscritto con il fondo Clementi, con un impegno a suon di milioni, subito 17 e poi altri 90, per il rilancio dell'azienda. A stretto giro infine la smentita del fondo inglese, secondo il quale non ci sarebbero decisioni del Tribunale di Milano, anzi resterebbe lui l'unico investitore con un accordo vincolante con gli azionisti. Non tiene conto assolutamente di quello che sono i lavoratori e non tiene conto di quello che è la realtà di quell'azienda, Le istituzioni locali, regione comune, hanno già chiesto un intervento urgente del Ministero, un appello fatto proprio anche dai sindacati. La CISL in questo periodo sta facendo una raccolta firme per attuare l'articolo 46 della Costituzione che permette la partecipazione dei lavoratori all'interno dell'impresa. Noi pensiamo che se fosse stata attuata questa parte della nostra Costituzione non saremmo arrivati a questo punto.